Buonasera Simone Brugè, per una sera allenatore di Riviera Banca Basket Rimini, diciamo subito Massimo Bernardi questa sera non è stato in panchina per qualche sintomo legato a un sospetto Covid, ovviamente ancora non c'è niente di sicuro, però per precauzione è stato preferito questo e quindi Simone questa sera in panchina, però devo dire che come esordio non è andata proprio male. Tanto buonasera, ciao a tutti, come esordio è andato molto bene e su questo devo fare sicuramente i complimenti ai ragazzi perché per uno giovane come me, 26 anni, prima esperienza in una piazza importante, poi della propria città l'ho sentita veramente tanto e i ragazzi insieme a lei e tutto lo staff della dirigenza mi ha subito messo a mio agio e quindi questo vuol dire sicuramente tanto, soprattutto Max mi è stato veramente vicino in questo giorno, praticamente stamattina per preparare meglio la partita. Complimenti vanno fatti sicuramente ai ragazzi perché hanno giocato come l'avevamo preparata, seguendo il piano partita già da settimana scorsa per gara 1 fatto da Max, hanno continuato con quel piano partita, sono andati molto bene, bisogna ringraziare sicuramente anche i tifosi che sono veramente calorosi, che sono fuori perché dentro non si può stare al palazzetto, quindi veramente complimenti a loro. Rispetto a gara 1 Rimini ha concesso solo 10 punti in più, quindi comunque lo standard difensivo è rimasto buono, però abbiamo visto una netta differenza in attacco, insomma 5 giocatori in doppia cifra, abbiamo visto la palla girare molto velocemente e questa è la differenza fondamentale rispetto a gara 1. Sicuramente la difesa in gara 1 era andata bene, quindi quando tu vai a preparare una gara 2 ti concentri magari su quella cosa che invece in gara 1 è andata peggio, che sono sicuramente i 55 punti realizzati in casa. Abbiamo lavorato su quello, abbiamo analizzato gara 1 in maniera molto precisa, abbiamo analizzato le cose da migliorare, i vantaggi che potevamo ottenere e dire che i risultati c'è stato. Anche in difesa comunque si abbiamo concesso 62 punti a una squadra veramente con ottimi elementi, tipo Bona, che mi sembra adesso non è il tabellino portato in mano, abbia chiuso con due punti se non ero, Turè con 5. Insomma, quindi veramente bravi. Ci sono ovviamente come sempre margini di miglioramento, ma adesso godiamo questa sera per questa vittoria, poi però domani concentratissimi per preparare al meglio gara 3. Infatti era lì che volevo arrivare per l'ultima domanda, venerdì gara 3, è già un primo match point, ricordiamo che le serie sono al meglio delle 5, però ovviamente si cambia scenario, si va a Cremona in casa della Juve Cremona. Un giorno in più per preparare questa partita rispetto alla differenza tra gara 1 e gara 2, cosa può cambiare in gara 3? Ovviamente Cremona in casa sua con le spalle al muro cercherà di dare tutto per evitare il 3-0. Ma cosa può cambiare? Più che altro dobbiamo rimanere quelli di oggi, magari perfezionare due o tre aspetti che possiamo sicuramente migliorare, però questo è il gioco che dobbiamo proporre, un gioco intenso dove dobbiamo concedere meno. Abbiamo magari in qualche occasione concesso un po' troppo sotto canestra, rimbalzo in post basso, sicuramente quello è un aspetto su cui migliorare, però onestamente ragazzi il gioco che dobbiamo esprimere è questo. Ci sono stati anche segnali importanti da Nico, dallo stesso Jack, ma allo stesso Piero, oggi ragazzi tutti straordinari, non posso fare un nome e dire oggi lui è stato più bravo degli altri, oggi veramente tutti i ragazzi hanno dato il 120% e ce la sono veramente meritata.